L'aula magna del liceo scientifico Albert Einstein era gremita questa mattina per l'incontro dedicato al progetto Icaro, sicurezza stradale declinata in tutti i suoi aspetti. Presenti alcune classi del polo colonnella Alberti, Iti, Da Vinci, Valturio, geometri Belluzzi ed Einstein, oltre a numerose autorità. Prefetto, questore, comandante dei carabinieri della Guardia di Finanza, naturalmente alla Polstrada. Nelle parole della preside dell'Einstein, Alberta Fabri e della dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, Agostina Melucci, l'invito ad una maggiore consapevolezza delle regole. Vogliamo arrivare prima è l'appello di Angelo Fruggeri, comandante provinciale della Polstrada. Il dibattito, moderato da Grazia Antognoli di Altarimini.it, seguito dalla proiezione del film Young Europe, è stato intenso e partecipato da oltre 200 studenti presenti. La Polstrada è sempre più presente nelle scuole per ricordare le regole fondamentali del normale girare per strada. Sì, ci tenevamo a questo incontro, c'è stata una grossa partecipazione da parte delle massime autorità della provincia, degli studenti e degli insegnanti. Una cosa veramente piacevole, un film che appunto ha fatto riflettere molto sulla sicurezza stradale e sull'educazione alla legalità. Voi siete i cattivi, prendiamo questa provocazione, i controllori eccessivi? No, noi siamo un corpo che appunto si occupa di sicurezza stradale in primis, siamo specializzati, ci occupiamo appunto della sicurezza delle strade, del rispetto delle norme del codice della strada e cerchiamo di far rispettare le regole.